Traffico in tilta e macchine bloccate nel parcheggio sottostante la chiesa San Pio X per il prelevamento e trasporto della vara dell'ultima cena dal Museo dei Gruppi Sacri. A denunciare l'inconveniente, Padre Alessandro Giambra. Nessun avviso né al parroco né ai residenti di Via Napoleone Colaianni per informarli del tanto atteso evento. Infatti le operazioni precedenti e successive relative al posizionamento della vara sull'auto articolato diretto all'Expo di Milano hanno creato notevoli disagi alla circolazione e i parrocchiani rimasti bloccati. Ad esprimere ai nostri microfoni il disappunto sulla scarsa organizzazione logistica Padre Alessandro. Veramente sono amareggiato perché bisogna anche essere pazienti in questa occasione io non lo sono stato perché noi il giovedì mattina abbiamo la celebrazione della messa tante macchine che dovevano uscire dal parcheggio sotto la chiesa si poteva mettere un avviso e poi mi sono lasciato anche perché tante volte è tacere, il silenzio è complicità. Io sono indignato, amareggiato perché alla fine per l'orgoglio e qualche politico mi ha detto che è politica quella che faccio io ma io non so manco a chi mi rivolgo, a chi dare colpa, forse do colpa a me stesso e se la vara è partita stamattina quindi non so chi gliela manda, chi paga e soprattutto chi paga per davvero le conseguenze. hanno detto no ma lei deve pensare alle anime, le anime hanno un corpo e qua tante anime vengono e questo mi ha amareggiato perché alla fine portare una vara per alcuni giorni per andare a dire che cose a fare per l'arroganza, non ci sono andati i bronzi di Riace forse ci sono andati i bronzi dei politici a Milano.